via è partito vai vai perché c'è la 29 dove sti faccia la te ma sto riprendendo giusto? si stai riprendendo grazie a tutti via 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 vai per i filipini vai 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 si scende ragazzi si scende ragazzi guarda s'altare eh se mi riuscano in giù ma si ripeto è bello che va tu è già ritartito